L'amministrazione comunale di Chieti e la ASL Anciano Vasto Chieti, alla luce dell'aumento di casi di positività al Covid-19 nel capoluogo teatino, in particolare della variante inglese, invitano i cittadini a sottoporsi nei prossimi due fine settimana agli screening antigenici di massa. Il sindaco Diego Ferrara e il direttore generale dell'azienda sanitaria Thomas Schell ricordano che lo screening è gratuito ed annunciano che sarà effettuato il 6, il 7, il 13 e il 14 febbraio, dalle 8.30 alle 13.30, dalle 14.30 alle 19.30 al Palas Santa Filomena, nella palestra di Colle dell'Ara, al Palacus e nell'auditorium dell'ex chiesa delle Crocelle, mentre nelle palestre delle scuole Cesari e Chiarini il sabato dalle 16 alle 20 e la domenica per l'intera giornata. È necessario portare un documento di identità, la testa sanitaria e il modulo compilato che è scaricabile dal sito del comune. Sono in aumento i contagi e sembra che il 90% dei nuovi positivi contraggano la variante cosiddetta inglese, che pur avendo la stessa virulenza comunque è più diffusiva e più quindi trasmissibile nella trasmissione interumana. L'opera di screening che faremo questo fine settimana e il prossimo acquisisce quindi maggiore importanza clinica e statistica. Vorremmo ampliare il più possibile la platea di popolazione che volontariamente si sottoporrà a questo test, che è rappresentato dal cosiddetto tampone rapido antigenico. In pratica il risultato si ha in circa mezz'ora e conseguentemente possiamo avere il risultato immediatamente e chi risulterà positivo andrà a fare il tampone molecolare di conferma. È evidente che questo test è importante perché dalla percentuale dei positivi ci potremo rendere conto della diffusione del virus sulla nostra città. Grazie. 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 Grazie.